Assolta un'intera famiglia di agricoltori di Lucito, finita la sbarra davanti al tribunale di Larino. Circonvenzione di incapace, questo è il capo di imputazione, a processo con l'accusa di aver circuito un'anziana proprietaria terriera e di averle sottratto gran parte del suo patrimonio, del valore di circa 800 mila euro, costituito da un'azienda agricola, case, terreni, denaro contante, titoli postali e polizze assicurative. La pubblica accusa aveva chiesto una condanna per tutti e a dieci anni di reclusione, gli imputati sono stati assolti perché il fatto non sussiste. La difesa affidata a Roberto D'Aloisio, penalista termolese, è riuscita a dimostrare la regolarità delle transazioni patrimoniali, anche mediante complesse perizie psichiatriche, che hanno attestato che l'anziana possidente terriera era in realtà perfettamente capace di intendere e di volere e che spontaneamente aveva intestato il suo ingente patrimonio alla famiglia di agricoltori, preferendola ai nipoti che si erano disinteressati alle sorti della donna ma che erano ricorsi ai carabinieri. Ora l'avvocato D'Aloisio, dopo l'assoluzione con formula piena, ha ricevuto mandato di procedere regalmente contro i nipoti della signora per le accuse ai danni dell'onesta famiglia di agricoltori di Lucito. Intanto coordinate dalla procura di Larino, i finanzieri della tenenza frentana, attraverso meticolosi accertamenti, hanno acquisito numerosi elementi che hanno permesso di identificare il responsabile di una truffa ai danni di un'anziana. Quest'uomo, mediante la falsificazione di apposita documentazione sulla quale venivano riprodotti anche i loghi di una compagnia assicurativa, ha fatto credere l'anziana vittima di poter beneficiare di un vantaggioso investimento ed è riuscito a farsi corrispondere diverse somme di denaro per 28 mila euro complessivi. Un'indagine scrupolosa. Questa attività della Guardia di Finanza, di concerto con l'autorità giudiziaria, è finalizzata alla tutela delle fasce più deboli, come le persone sole ed anziane, a loro soprattutto l'invito a contattare le forze dell'ordine in caso di situazioni strane o comunque non convincenti.